Buona prima domenica del tempo d'avvento. Ci accompagna in questa domenica il testo del Vangelo secondo Luca al capitolo 21. Leggiamo il testo e lo commenterò per voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombe addosso all'improvviso. Come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Il testo del Vangelo secondo Luca che leggiamo in questa prima domenica del tempo di avvento è chiaramente un testo dal sapore direi escatologico. Riavvolgiamo il nastro. Che cosa significa escatologico? La parola escaton nel linguaggio cristiano ma nella lingua grega in generale sta ad indicare proprio la fine, le cose ultime. Le prime due domeniche del tempo di avvento sono domeniche dette escatologiche, cioè sono le domeniche in cui riflettiamo sulla seconda venuta di Cristo, non tanto sulla preparazione al Natale di cui si parla abbondantemente in seguito, ma nelle prime due domeniche i Vangeli ci parlano chiaramente del momento in cui il Signore tornerà nella sua gloria. Lo diciamo anche nel credo, credo che egli tornerà e giudicherà i vivi e i morti. Questo testo del Vangelo secondo Luca segue proprio questo tipo di ragionamento, infatti non dobbiamo lasciarci spaventare da tutti i fenomeni apocalittici che vengono descritti, ma ci soffermiamo su alcuni versetti che illuminano tutta la parte che sembra quasi spaventarci. State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Il Signore ci sta chiedendo di avere uno sguardo attento sulla nostra vita, di porre attenzione alla nostra esistenza. Sant'Agostino diceva, temo il Signore che passa, temo che Lui passi nella mia vita e che io non me ne accorga. La prima domenica del tempo di avvento ci richiama a fare proprio questo, attenzione, attenzione alla nostra vita, attenzione perché Lui tornerà e ci chiederà questa vita, ma non solo attenzione per questo, attenzione perché possiamo vivere bene. Come si fa a vivere bene secondo il Vangelo? Qual è la vita buona che il Vangelo propone? Il Vangelo propone una misura buona della vita se questa è donata, se questa è regalata, se impariamo a liberarci di tutto ciò che ci appesantisce il cuore, di tutto ciò che ci rende padroni della vita. Questa vita non va posseduta, ma questa vita va donata in modo che non si appesantisca, ci dice il testo. Poiché dobbiamo donarla questa vita, poiché siamo chiamati a non vivere in modo dissipato, potremmo dire in modo disordinato, trovano senso gli altri versetti, quelli che sembrano essere apocalittici, che ci parlano di questi fenomeni nefasti. In realtà questo è un modo che l'autore utilizza per dire che rispetto al ritorno di Cristo nulla è importante. Il suo ritorno è superiore a tutto il resto, è superiore al sole, alla luna, alle stelle. I uomini antichi che cosa facevano? Regolavano tutte le loro vite e tutte le loro recisioni dopo aver consultato gli astri. Quindi l'autore del Vangelo che cosa fa? Ci parla di un ritorno di Cristo che è superiore rispetto al sole, alla luna, alle stelle, superiore rispetto a tutto il creato. In definitiva il suo ritorno è superiore a tutto ciò che la nostra vita, tutto ciò che nella nostra vita costituisce un punto di riferimento. Se per gli uomini antichi punti di riferimento erano gli astri, per noi il punto vero, il punto reale di riferimento è il Signore. Quindi vegliate in ogni momento. In questo tempo di avvento vogliamo riscoprire il dinamismo della veglia. Vegliare. Vegliare significa restare svegli, significa non addormentarsi, significa saper aspettare. Ecco, uno degli obiettivi di questo avvento può essere proprio questo, imparare ad aspettare, sapere attendere i tempi di Dio nella nostra vita. Solo allora vedremo davvero il Figlio dell'uomo, il Signore Gesù. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona prima domenica del tempo di avvento.